A volte è generare qualcosa di nuovo, a volte è difendere estrenuamente, a volte è creare. A proposito di Madri, molte volte vi ho citato, e non soltanto in questa stagione, l'osservatore romano con il suo Donne Chiesa Mondo, un mensile tutto dedicato proprio all'impronta femminile all'interno della Chiesa e quindi naturalmente nell'apertura al pianeta intero. Miriam ed Henry De Luca, due parole a fianco. Vedete come la grafica si sposa insieme con un classico dei grandi ritratti rinascimentali. Andiamo subito a scoprire quello che cerca di indicarci quanto a collegamenti in questo tema di primo piano. Henry De Luca, un uomo certo, uno scrittore tra l'altro anonimo, perché più volte aveva scritto appunto senza la sua firma. E soprattutto anche un personaggio diverso dagli opinionisti consueti, pur essendo un trascinatore in qualche modo di concezioni sul mondo e sulla vita. La scelta di Miriam, la forza di Josef. Qui si parla di Maria Giuseppe, l'autore di In nome della madre riflette sul mistero della maternità, sul messaggio di Maria per le donne d'oggi, lavoratrici e migranti. Non solo questo evidentemente le donne d'oggi. La maternità è origine, la formazione di qualcosa che sta dentro, appunto un grembo, un corpo, ma non solo. La sua sorgente all'aria aperta, mistero di vita di ognuno che rinnova la nostra specie sulla terra. E come noi tutti sappiamo, la modalità di questo mistero nel caso di Maria è un unicum nella storia. Eppure ci sono tante maniere di scoprire quanto può essere speciale il dono della maternità. Ride Luca ne elenca parecchie. Infatti la fede, dice, è un elemento cruciale in questo caso, ma lei crede, crede a qualcosa di inverosimile. Quindi vuole insegnarci forse l'autore che a volte noi, proprio per consuetudine con il mistero della maternità di Maria, dimentichiamo quanto può essere inverosimile la verità. Non la riconosciamo quando è altrove e non soltanto nell'incarnazione che celebreremo tra pochi giorni. Maria ha un viaggio incinta, è prossima al parto lungo piste fangose. La sua grazia non è portamento da sfilata in passerella, ma forza di combattimento. C'è anche un'altra bimba che sta a fianco a quello che è addirittura un capolavoro di Giotto, sempre sul tema della natività. La bimba si chiama Miracle in questo caso e la mamma si chiama Peace, sembra incredibile. Eppure sono proprio i loro nomi. Vengono dal Ghana e si trovano sul ponte della Open Arms, in questo scatto d'autore, che arriva appunto da uno dei fondatori dell'ONG spagnola, ormai celeberrima, proprio per i suoi salvataggi e non soltanto di mamme e bambini. Potremmo anche chiudere con questa frase di Henry De Luca. I profeti sono presi alla sprovvista dalla voce divina che rompe nelle loro vite. Alcuni vacillano. Mosè obietta, sono balbuzienti. Isaia, sono impuro con le mie labbra, non posso pronunciare messaggi. Geremia, sono troppo giovane per poter essere ascoltato. Giona addirittura scappa in direzione opposta. Poi si piegheranno alla volontà che li ha voluti e scelti. Solo Miriam, ragazza, non ha nessuna esitazione di fronte all'annuncio. Ecco ancora una volta quindi perché possiamo dire che non riconosciamo quanto possa essere inverosimile la verità. Prima di passare ad altro argomento scopriamo un riferimento molto simile a proposito di difesa del femminile. Tukur con la storia di Gian Paolo Longhi. Famiglia cristiana la mette proprio in copertina. La vicenda di questo volontario dell'anno per la difesa delle donne sfruttate. La mia lotta in Etiopia per le invisibili. E andiamo dunque a sentire il racconto di Antonio San Francesco. Che non parla solo con il vincitore di questo prestigioso premio a volontario dell'anno Foxiv. Ma soprattutto parla con chi è appunto avuto da lui tanto bene. Ha avuto una svolta esistenziale. Siamo uscite da un incubo. C'è chi scappata ce l'ha fatta. Tornare in patria è già un altro lavoro. Ma per il riscatto definitivo ci vuole l'intervento del premier Abiy Ahmed. Nobel per la pace. Questa è una donna di 20 anni. Sta preparando il pranzo per la famiglia. È semplicemente una persona che vuole ringraziare proprio questo giovane Gian Paolo Longhi. che conversa sia con lei che prepara il pranzo che con la padrona di casa. Quindi una scena semplice di lavoro all'interno del sud dell'Etiopia. Però c'è molta commozione proprio nel ripercorrere quello che è accaduto. L'Italia aiuta il loro paese. Ci ricorda il volontario Gian Paolo Longhi in uno scatto con la compagna Giorgia Bellugi. E non basta naturalmente quello che è stato già fatto. Lui guarda soprattutto al futuro. La ricerca condotta dal CVM tra novembre dello scorso anno e giugno del 2019 nelle regioni dell'Etiopia meridionale è stato il primo importante passo per scoperchiare un fenomeno di cui poco o nulla si sa. Oltre alle lavoratrici domestiche interne, diffusissime anche nelle classi sociali più umili, si contano le molte che migrano principalmente verso paesi del Golfo e Medio Oriente. Quelle che lavorano legalmente sono 300 mila o meglio. Questa era una cifra che poi è aumentata abbastanza vertiginosamente perché poi pian piano grazie anche al lavoro di persone come Longhi sono uscite dall'incubo dello sfruttamento del non essere neppure riconosciute dal punto di vista dell'anagrafe nei paesi in cui lavoravano. Ecco perché ovviamente trattandosi di donne giovani poi ci sono anche momenti in cui da vita nasce vita oltre che da lavoro nascono diritti ed ecco perché ci vogliono spesso proprio persone che non hanno paura dell'inverosimile per creare il bene. Camminando in questo bosco ogni cosa ci parla di Francesco gli alberi, i fili d'erba, gli animali specialmente gli uccelli con il loro canto. Sì perché Francesco parlava, comunicava con loro e nel fioretto che ascolterete Francesco predica agli uccelli e loro rimangono lì immobili ad ascoltare. È un miracolo? No. È la voce di un uomo, una creatura che comunica con un'altra creatura e l'immagine di chi è in perfetta sintonia con il creato e il suo creatore. Francesco levò gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via in su quali era quasi infinita moltitudine di uccelli di che Santo Francesco si maravigliò e disse a compagni «Voi mi aspetterete qui nella via e io andrò a predicare alle mie sirocchie uccelli». Egli entrò nel campo e cominciò a predicare agli uccelli che erano in terra. E subitamente quelli che erano in sugli arbori se ne vennono a lui insieme tutti quanti e stettono fermi mentre che Santo Francesco finì di predicare. E poi anche non si partivano infino tanto che egli die loro la benedizione sua. E secondo che raccontò poi frate Maseo a frate Jacopo da Massa andando Santo Francesco tra loro e toccandole con la cappa nessuna perciò si muovea. a frate Maseo La sostanza della predica di Santo Francesco fu questa. Santo Francesco con loro insieme si rallegrava e dilettava e maravigliavasi molto di tanta moltitudine di uccelli e della loro bellissima varietà e della loro attenzione e familiarità per la qualcosa egli in loro divotamente lo dava il creatore. Tra terra e cielo soffia frate evento è un giornalista che si chiama Antonio Caschetto a portarci attraverso una testata che è quella dei cappuccini dell'Umbria e si chiama voce serafica dentro la concretezza anche così è definita tutta francescana tutta proprio del poverello D'Assisi sulle orme di lui guardiamo anche questa statua nel percorso che conduce a San Damiano il Cantico delle Creature nacque in questo giardino dello spirito francescano nel 1224 ci sono tanti aspetti che vengono sottolineati di questo immortale modo di celebrare il Signore attraverso le sue creature ne abbiamo anche parlato qualche mese fa ma è sempre bello scoprire con nuove testate nuove attenzioni le stelle il vento la terra e in particolare proseguendo questa riflessione gli elementi della creazione che tradizionalmente vi ricordo sono aria, acqua, fuoco e terra personificati anche all'epoca attraverso delle immagini specificamente medievali noi invece vediamo che a corredo di questo articolo di un personaggio che fa parte del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima c'è appunto madre natura parliamo dell'aria un elemento che normalmente è intangibile è uno spazio fisico anche se rarefatto con una sua consistenza pensiamo a ciò che riesce a produrre una massa d'aria in termini di effetti sulla realtà circostante cosa significa essere penetrati nell'intero universo dall'aria sapere per esempio che nella natura il vuoto non esiste che ogni spazio appunto apparentemente vuoto si riempie questa è anche una lezione come dire strategica non soltanto di leggi della natura ma poi la riflessione prosegue quando noi pensiamo al vento spesso immaginiamo la bufera alberi sradicati cicloni case scoperchiate soprattutto se sensibili ai temi del riscaldamento globale quindi le immagini sembrano distruttive quelle evocate appunto dalla parola vento ma da bambini il vento faceva muovere gli aquiloni e anche San Francesco ci ricorda questo suo conoscitore questa persona che segue le sue orme molto da presso come tanti altri riscopre immagini gentili una brezza leggera un vento amico portatore di vita ci riporta al sentimento di lode ci accompagna per mano come bambini con l'aquilone a chiudere gli occhi e sentire sulla nostra pelle la piacevolezza di una carezza che solo il vento leggero ci dona nel cuore di Francesco il primo elemento e portatore di vita è il soffio vitale che congiunge cielo e terra insomma forse lo spirito santo che come sappiamo anche in italiano abbiamo un gioco di parole ma soprattutto nella lingua ebraica ruà rimanda direttamente al soffio è qualcosa che ci sostiene anche quando ci sembra mancare l'aria accantoniamo anche questa copertina voce serafica direttamente dai cappuccini dell'Umbria per andare a scoprire i manufatti dell'uomo manufatti che hanno mille vite uno di questi è l'immortale Pinocchio nella copertina del venerdì in riferimento alla versione di Matteo Garrone della nostra favola che ha avuto in assoluto più successo nel mondo una favola tutta italiana ricordiamolo sempre però all'interno è molto bella anche come la racconta Enrico Franceschini la storia delle mille vite di questa dimora sì dimora di aristocratici potremmo subito sentire qualcosa di staccato rispetto alle nostre vite guardandola ma non è affatto così perché appunto da molto tempo non soltanto in Inghilterra proprio per amore delle tradizioni e di mantenere comunque la possibilità che tutti conoscano determinate vicende non solo delle loro famiglie i nobili inglesi sono venuti a patti con le loro eredità che sono a volte smisurate ma molto molto difficili da mantenere e quindi questi castelli queste ville non solo diventano dei set per fiction e cinema ma anche luoghi in cui si può andare a fare una bella visita e anche però in pochi casi fermarsi magari per qualche giorno che bel castello nell'Inghilterra di Downton Enrico Franceschini tenete conto è una grande firma del giornalismo cioè degli inviati che vivono nel Regno Unito in genere racconta cose ben più complicate di Downton Abbey però questa volta si è lasciato sedurre dalla prima tappa ad un viaggio nelle serie tv insomma questo è l'Eichler Castle di Newbury poi ci sono i paesi la campagna i giardini anche nella capitale anche a Londra dunque la storia di coloro che sono i padroni sono stati per meglio dire perché questa fiction che è stata venduta in decine di paesi nel mondo e poi è diventata anche una puntata per ora unica al cinema è cominciata con l'anno dell'affondamento del Titanic quindi più di cento anni fa eppure appunto è una storia non soltanto di ricchi ben vestiti che non sapevano come riempire il loro tempo libero che a meno che non fossero in guerra era davvero tanto è anche la storia dei loro servitori ed è appunto una serie di vicende che si intreccia in una maniera straordinariamente affascinante si raffigura la tipica situazione inglese denominata upstairs downstairs ovvero gli aristocratici ai piani di sopra la servitù ai piano di sotto come diremmo in Italia il mondo è fatto a scale qualcuno scende qualcuno sale le visite agli antichi castelli inglesi questo come altre sono state rese possibili proprio dal tramonto della nobiltà terriera e dal fatto che questo tramonto ha coinciso con molta meno disponibilità di denaro e di beni Hampshire ma in generale anche la Cornovaglia cioè il sud dell'Inghilterra ma anche delle piccole piccolissime regioni celeberrime per i loro meravigliosi panorami collinari ad esempio nel Cotswolds una stupenda catena a nord-ovest di Londra che tra l'altro è abbastanza vicina comunque dalla capitale mentre spostandosi a nord-est si arriva al castello di Lincoln a due ore di treno dalla città di York qui siamo un po' più a nord è lì che nella terza stagione di Downton Abbey viene rinchiuso in prigione con l'accusa a domicilio John Bates ex compagno d'armi di Lord Grantham uno dei protagonisti nonché suo fedele domestico ecco perché qualche volta riscoprire anche una certa educazione non solo fatta di formalità ma certamente soprattutto di grande controllo nelle relazioni ci potrebbe essere d'aiuto in questi tempi in cui si è così sgangheratamente falsamente amici o comunque non si cura abbastanza quella forma che a volte invece è una grande difesa sia nei momenti di grande pericolo o di tensione tra le persone che naturalmente anche in altri momenti quelli anche più forti abbiamo visto dunque questi manufatti torno a chiamarli così come si integrano perfettamente nei panorami e questo non può che farci piacere in una puntata in cui parliamo di rispetto del pianeta ma prima di lasciarci abbiamo invece uno scatto straordinario che ci riporta alla grande tradizione di internazionale che questa volta in copertina ha comunque un personaggio sempre britannico ma si parla di politica si parla di problemi davvero notevoli di cui ora non ci occupiamo e ha appunto questa testata una serie di foto firmate proprio prima di passare alle traduzioni di tanti reportage record di spettatori qui siamo a città del messico è una foto di qualche settimana fa ormai del 23 novembre una foto aerea scattata da un drone ritrae la plaza mechico l'arena per corride più grande del mondo durante la partita di esibizione tra il campione di tennis lo svizzero Roger Federer e il tedesco Alexander Zereff numero 7 al mondo inaugurata nel 1946 era la prima volta che la struttura ospitava un incontro di tennis con 42.517 spettatori quella tra Federer e Zvetev è stata la partita di tennis con il pubblico più numeroso della storia quindi come vedete quando si parla di questi virtuosi di uno sport che tanto per cambiare è nato in Inghilterra le cifre non sono così enormi come ci aspetteremo e c'è anche un po' di sorpresa nel riscoprire appunto quanto colore ci possa essere laddove di solito c'è o verde o terra battuta abbiamo parlato di sport no naturalmente soprattutto di fenomeni sociali abbiamo però anche ripercorso una possibile riconciliazione in fondo tra noi e i tanti eventi che il mondo inteso come natura intendono cambiarlo a l'occhio il mondo può starvi parola lara l'argo ente occhio Grazie a tutti